È anche un po' un antidoto essere diventati, essere arrivati a un successo, insomma, da adulti, perché siamo, insomma, parto personalmente, insomma, sono sicuro di quello che faccio, ecco, non so come dire, magari quando sei giovani è più difficile, no, a tenere veramente un timone, a dire le pressioni, e magari dicono, no, ma devi fare così, fai cos'ha, non mai visto che quella canzone ha fatto più ascolti. Quindi, boh, alla fine quando sei adulto un po' te ne freghi, cioè, come se magari da adulto ti dicono, no, ma non stai bene con la cintura, e tu dici, ma ascolta, ma che io è 40 anni, è 50 anni che, capito, che la metto, cioè, è quel concetto lì, e quindi questa cosa alla fine si ripercuote in una certa libertà creativa, che ci rende sereni, ecco.